Multa doppia nonostante i sacchetti della spazzatura oscurassero l'occhio elettronico. A difendere un quarantenne mestrino, l'Associazione Difesa dei Consumatori, che torna ad affrontare ancora una volta il problema di multe ZDL a mestre. Lo scorso gennaio, alla vigilia dell'Epifania, l'uomo è passato con la sua auto in due zone a traffico limitato. Prima in via Torre Belfredo, poi in via Le Garibaldi, dopo aver visto i segnali coperti. Risultato? Due multe da circa 90 euro. È dunque ricorso al prefetto su consiglio di un dirigente della mobilità e ha conseguito il raddoppio della multa. Le comune e la prefettura non dialogano su argomenti importanti come per esempio l'interesse del cittadino quando rimane vittima di male funzioni. Ma soprattutto ci fa capire come anche il prefetto, di fronte a certi ricorsi che presentano gli automobilisti, anche con l'esperienza supportata dell'Adico, non dà neanche lettura di quelli che sono i contenuti, ma agisce solamente d'ufficio. L'associazione dà poi un altro prezioso consiglio agli automobilisti, infatto di ZTL. Purtroppo sulla ZTL sconsigliamo di andare troppo avanti perché i costi poi non diventano convenienti sicuramente a portare avanti le proprie stanze. Però certamente si può pensare di fare un ricorso su quello che è una sentenza negativa che ha rilasciato il prefetto. Però mi chiedo anche come mai all'inizio di tutto questo, essendoci stata l'omissione del Comune, il Comune non abbia pensato di annullare la multa in autotutela.